Alla 13.20 di oggi un mototurista milanese di 31 anni in transito a Fano, in sella alla sua moto da enduro equipaggiata di tutto punto, è stato coinvolto in un incidente stradale con un'auto in Viale Piceno all'altezza del distributore Tamoil e trasportato in gravi condizioni dall'elisoccorso all'ospedale di Torrette di Ancona in codice rosso. Ancora in fase di accertamento da parte della polizia locale l'esatta dinamica dell'incidente, ma dalle testimonianze di alcuni presenti pare che il motociclista stesse superando le auto incolonnate per il traffico quando una Renault condotta da un cinquantasettenne di Fano ha svoltato a sinistra per entrare nell'area di servizio. Entrambi i mezzi stavano procedendo in direzione Ancona-Fano. L'impatto con l'auto ha fatto perdere il controllo al motociclista che ha sbandato ed è finito contro il muretto basso di recensione del distributore sbattendo violentemente il corpo contro i pali di sostegno dell'insegna del bar, sotto gli occhi attoniti dei presenti. Subito dopo l'impatto si sono vissuti attimi di angoscia dato che il 31enne è rimasto immobile sull'asfalto senza dare alcun cenno vitale. Dopo pochi però eterni secondi ha ripreso conoscenza ed è stato affidato alle cure dei sanitari del 118 arrivati subito sul posto. Ma data la dinamica dell'incidente è stata anche allertata immediatamente l'eliambulanza che in pochi minuti è atterrata in uno spiazzo vicino con la destrezza e il sangue freddo a cui ormai siamo abituati portando così in pochi minuti il motociclista ad Ancona dove si trova tuttora ricoverato. Al momento non si conoscono le sue esatte condizioni di salute ma certamente per lui sono stati provvidenziali le protezioni in Kevlar di cui era adottato il suo giubbotto compreso anche un paraschiena ed il casco integrale altrimenti le conseguenze del terribile impatto potevano essere certamente più disastrose. Il conducente dell'auto coinvolto invece è stato sottoposto ad alcol test come prevede la legge ma non ha riportato alcun danno fisico nell'urto con la moto. Sul posto oltre alle due pattuglie della polizia locale impegnate per i rilievi anche una pattuglia dei carabinieri di Fano in supporto per regolare il traffico particolarmente intenso in quell'ora della giornata.